Grazie Presidente. Ministro, vi esponiamo un fatto che non è soltanto un fatto di cronaca, ma è un fatto di giustizia e di umanità. Circa dieci anni fa in provincia di Varese un ragazzo di soli 23 anni è stato ucciso con una coltellata da un cittadino albanese presente in Italia clandestinamente. Noi crediamo che lo Stato debba ritenersi responsabile nella causazione della morte di Claudio Meggiorin, perché lo Stato non ha impedito né che il cittadino albanese entrasse legalmente nel Paese e lo Stato non ha provveduto all'espulsione immediata di questo cittadino. Ed è il motivo per cui noi chiediamo con questa interrogazione il fatto che lo Stato si faccia responsabile e carico della morte di questo giovane ragazzo, lo Stato intervenga per poter provvedere al giusto risarcimento nei confronti della famiglia e soprattutto che lo Stato non lasci e non abbandoni una famiglia che ha perso un figlio in condizioni tragiche. La ringrazio. Il Ministro della Giustizia Orlando ha facoltà di rispondere. Nel rispondere all'interrogazione rilevo che il 6 maggio 2006 il GIP del Tribunale di Varese ha condannato Vladimir Mnella alla pena di 30 anni di reclusione per il delitto di omicidio aggravato ai danni di Claudio Meggiorin e per il connesso reato di porta abusivo di coltello, reati commessi a Besano l'11 giugno del 2005, in concorso con il minore Rangsa. Il giudice ha ritenuto inapplicabili al Mnella alle circostanze attenuanti generiche. Inoltre il giudice ha applicato nei confronti del Mnella la pena accessoria dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato da eseguirsi dopo l'espiazione della pena, cioè dopo i 30 anni. Infine il giudice ha altresi condannato il Mnella a risarcimento dei danni in favore dei familiari per complessivi 475 mila euro, oltre agli interessi legali, alla rifusione delle spese di Costituzione e giudizio nei confronti delle parti civili. Con sentenza del 17 ottobre 2007, la Corte d'Assise d'Appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Varese, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante, confermando per il resto la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello, rendendo pertanto la condanna definitiva. La misura di sicurezza dell'espulsione è stata pertanto effettivamente disposta nei confronti del Mnella dal giudice di primo grado e confermata nei successivi gradi di giudizio. Attualmente il Mnella è detenuto presso la casa di reclusione di Volterra, con una pena che si esaurirà il 2 febbraio del 2031. Alla luce di tali elementi non paiono ravvisarsi nei fatti questioni o profili suscettibili ed eventuali approfondimenti ispettivi. Per quanto riguarda la più generale questione relativa al risarcimento delle vittime e dei reati, assicuro agli interroganti che comprendo le ragioni dei congiunti della vittima. Intendo qui manifestare tutta la mia vicinanza. Il Governo non mancherà di perseguire con la necessaria attenzione ai riflessi sugli equilibri di finanza pubblica, le opportune iniziative ad aumentare la tutela delle vittime e dei reati. In questo senso è cruciale il passaggio che si determinerà anche a livello europeo. L'Europa in sostanza indica un limite nel nostro ordinamento, cioè quello dell'assenza di un sistema organico di risarcimento delle vittime e dei reati, che sono invece circoscritte soltanto ad alcune ipotesi e ad alcune fatti specie. Da questo punto di vista ritengo che sia assolutamente, per la ragione che è stata sollecitata, ma anche per gli impegni che a livello internazionale abbiamo assunto, sia assolutamente necessario costruire questo sistema organico di tutela delle vittime dei diversi reati e ritengo che debba essere questo oggetto dell'azione di Governo e mi auguro del sostegno pieno del Parlamento. Ministro, noi prendiamo ovviamente l'impegno che lei si è preso come un impegno non tanto nei confronti nostri, ma quanto nei confronti di una famiglia, di una madre, di un padre, di una sorella che hanno visto tragicamente perdere il proprio figlio alla sola età di 23 anni. Al netto della politica, nessuno vuole fare strumentalizzazioni politiche di una vicenda tanto grave, però io credo che in condizioni come queste, nel momento in cui una famiglia e quindi l'aspetto umano che prevalica rispetto a qualunque considerazione di natura politica, io credo che lo Stato, che è stato in quelle condizioni, è assolutamente inadempiente, perché il colpevole di quell'omicidio non doveva stare in Italia, non doveva entrare e nel momento in cui è entrato doveva essere espulso, io credo che lo Stato debba farsi carico di non abbandonare una propria famiglia, una famiglia che ha perso in condizioni così tragiche un figlio e io credo che l'impegno che lei si è preso deve essere un impegno serio che si prende di fronte ad una famiglia. Ci sono tante risoluzioni internazionali, c'è una dichiarazione dell'ONU che porta gli Stati membri a farsi carico laddove il risarcimento non viene garantito da parte della vittima, a farsi lo Stato carico di poter garantire una tutela di natura economica. Oltre all'aspetto di natura economica c'è proprio l'aspetto umano e di giustizia. Vi vogliamo ricordare e ricordo a lei, ricordo al Parlamento che troppe volte in quest'Aula si è difesa e si è cercato di tutelare i diritti e gli interessi di coloro i quali stanno in carcere, quando invece noi abbiamo la necessità e il dovere per spirito politico, per spirito umanitario, di giustizia e di dignità nei confronti delle vittime e delle famiglie di dover tutelare gli interessi delle vittime. Quindi mi auguro che il suo impegno, che è un impegno serio e importante da persona per bene e onesta qual è, possa essere perseguito a tutela di una famiglia che ha già sofferto e io credo che questa famiglia non debba essere uccisa per la seconda volta. Grazie Ministro.